Questa è la cattura speciale, ma dedico sempre a una persona speciale e poi penso in tutto il mondo, io penso che sia sì. Perché se io posso cambiare, perché se tu puoi cambiare, tutto il mondo può cambiare, tutto il mondo può cambiare. Grazie, grazie. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti